A volte rendersi conto di soffrire di un disturbo visivo o di una patologia oculare non è così semplice anche per quanto riguarda i difetti più comuni come miopia, ipermetropia e astigmatismo. Soprattutto quando coinvolgono i bambini piccoli i problemi della vista richiedono l'intervento di un esperto per essere individuati. Oltre ai difetti più diffusi bisogna tenere sotto controllo anche i congiuntiviti, disturbi della lacrimazione e alcune patologie più gravi come il glaucoma, la degenerazione maculare senile, la catarrata, la retinopatia diabetica. Alcune malattie dell'occhio peggiorano con il tempo e all'inizio non sono percepibili da chi ne soffre perché la perdita della vista è lenta e graduale. Quando il paziente si accorge del problema spesso è troppo tardi per intervenire in maniera efficace. Il secondo giovedì di ottobre, mese dedicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità alla Prevenzione delle Patologie Oculari, si celebra la Giornata Mondiale della Vista. Un appuntamento per ricordare quanto è prezioso questo senso e perché è fondamentale proteggerlo con controlli periodici. Lo scopo della giornata è informare e sensibilizzare le persone sull'importanza della profilassi al fine che si sottopongano regolarmente a visite oculistiche. Molti problemi che riguardano la salute dell'occhio e che possono portare negli anni a cecità o ipovisione sono evitabili se riscontrati in tempo utile. La necessità di effettuare screening preventivi che, si è accertato, possono ridurre tali rischi, addirittura dell'80% diventa importantissimo. Anche a Vibo Valencia, grazie al costante lavoro della sezione WICI, la sensibilizzazione e gli screening continuano a rimanere al centro del costante impegno a far comprendere l'importanza della prevenzione e fare profilassi visiva. Da qui, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, l'incontro in sede con l'oculista Giovanna Carnovale per uno scambio di informazioni e relativo screening. Come ogni anno noi abbiamo accolto l'invito dell'IAPB, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che organizza questa giornata proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi tutta la cittadinanza sull'importanza di fare prevenzione sulle patologie visive. Quindi la giornata viene svolta attraverso una conferenza stampa e un convegno dove la dottoressa va a spiegare tutte le patologie e quindi spiega su come fare prevenzione. Anche quest'anno abbiamo avuto la collaborazione del centro per l'iprovisione di Germaneto e in più per le vie della città c'è la distribuzione degli opuscoli informativi forniti sempre dall'IAPB sulle patologie e questa divulgazione è a cura dei nostri giovani del servizio civile. A che età è utile iniziare questo tipo di controllo della vista? Il primo controllo viene effettuato alla nascita attraverso il test riflesso rosso per diagnosticare malformazioni e patologie congenite oculari. A tre anni per la diagnosi dell'ambiopia, il cosiddetto occhio pigro e strabismo, poi a sei anni in epoca pre-scolare per diagnosticare difetti visivi quali l'amiopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo. E poi in adolescenza è bene effettuare delle visite una volta ogni anno o ogni due anni per diagnosticare la progressione dell'amiopia o delle patologie ereditarie come il keratocono che si sviluppano nell'età giovanile e adolescenziale. Dopo la fascia d'età tra i 20 e i 40 anni è raccomandabile seguire una visita ogni 5 anni. Dopo i 40 anni all'età dell'età della presbiopia per controllare il difetto visivo da vicino e poi dopo i 60 anni ogni anno per mettere in evidenza delle problematiche legate alla maculopatia o all'opacizzazione del cristallino, la cosiddetta cataratta. Per quanto riguarda il rapporto con la sanità pubblica, c'è un'adeguata attenzione per quanto riguarda la prevenzione visiva? Oggi siamo qui per celebrare la giornata mondiale della vista dove viene sensibilizzata l'opinione pubblica da parte dell'organizzazione mondiale della sanità e dell'agenzia per la prevenzione della città per tutelare il benessere visivo. Pertanto questo rappresenta oggi una manifestazione di interesse verso la vista. Per quanto riguarda invece l'utenza, il pubblico, c'è una maggiore sensibilità che si può riscontrare in questi ultimi anni? Sicuramente negli anni la popolazione si è sensibilizzata nei confronti del benessere e della tutela della vista. Sia attraverso queste campagne di screening, di promozione, quindi educazione, quindi del benessere, quindi della tutela, quindi della vista che anche da parte di colleghi dei pediatri nei confronti dei bambini, dei diabetologi, dei cardiologi, nei confronti dei pazienti ipertesi, quindi di abetici nonché tutte queste campagne servono a tutelare la vista e il bene dell'occhio.